La celebrazione eucaristica La celebrazione eucaristica è ben più che di un semplice banchetto. È proprio il memoriale della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvezza. Il memoriale non significa solo un ricordo, un semplice ricordo, ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo sacramento partecipiamo al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. L'eucaristia costituisce il vertice dell'azione di salvezza di Dio. Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli. E' per questo che, comunmente, quando ci si accosta a questo sacramento, si dice ricevere la comunione, di fare la comunione. Questo significa che, nella potenza dello Spirito Santo, la partecipazione alla mensa eucaristica ci conforma in modo unico e profondo a Cristo, facendosi pregustare già ora la piena comunione col Padre che caratterizzarà il banchetto celeste, dove con tutti i Santi avremo la gloria di contemplare Dio faccia a faccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti